buongiorno a tutti oggi è mercoledì 25 agosto e parliamo di analisi ciclica evoluta su daxefuximib ieri a partire dalla mattina abbiamo avuto lo stesso identico pattern che abbiamo fatto il giorno precedente ovvero apertura in gap up con le papi in questo caso e poi discesa verso il basso per poi ritornare piano piano a risalire il discorso è che si sono messi a lateralizzare il secondo discorso è che ed è grave non hanno voglia di andare in golden cross vedete che la media mobile blu non ha ancora non è ancora stata raggiunta dalla media mobile rossa che non è che non l'ha tagliata dal basso verso l'alto e questa è una cosa che dà da pensare perché perché come dicevamo se da qui è partito ed è partito da qui un altro t settimanale con questa scarsa spinta verso l'alto appena andremo sotto i 25.706 avremo un ciclo settimanale vincolato a ribasso e se succederà oggi per dire il discorso che continueremo a scendere perlomeno fino a 6 8 11 giorni ed andremo per alto a chiudere appunto questo mensile partito da qui e che per ora è arrivato a contare 25 barre ma non ha ancora fatto un minimo che soddisfi appunto la la sua chiusura e quello che è il requisito sufficiente per la chiusura stessa per cui se parliamo di mib per oggi mi aspetto vista comunque un'apertura non particolarmente frizzante e in ribasso di una quarantina di punti mi aspetto di vedere che cosa non voglio di fare e i due punti di controllo in realtà saranno questo minimo a 25.896 che se violato ci darà un segnale short se lo farà entro un tempo ciclico corretto peraltro a quel punto vedremo se da questo massimo sta partendo un ottavo t-3 e in questo caso soprattutto in appunto violazione di questo minimo valuteremo se eventualmente andare short questo anche perché potremmo avere un t-1 a tre tempi che richiede perlomeno una chiusura con un t-4 ribassista per cui se già questo non ha fatto molta strada come t-4 ci vogliamoci il secondo che cosa potrebbe fare quindi in campane attenzione a questo livello peraltro se noi riusciremo a tornare rapidamente sopra i 26.179 questo inizia a essere un ciclo che perlomeno è laterale come spinta e può diventare appunto ribassista se inizieremo a violare progressivamente appunto questo minimo e poi successivamente questo e vincolerà tutto il resto del settimanale a ribasso e a chiudere a quel punto il mensile come dicevamo per quanto riguarda il DAX invece la situazione è ben differente siamo quasi andati a prendere il gap down del 19 stiamo avendo un'ottima spinta qui abbiamo avuto la condizione sufficiente per la chiusura del primo t-1 siamo andati in golden cross e quindi c'è una buona spinta bisognerà vedere in mattinata come apriremo se rimarremo sopra la media mobile a 50 periodi che ci sta facendo da supporto e nel caso valuteremo se andare long soprattutto se ritorneremo sopra questo massimo ed eventualmente vincoleremo questo t-inverso per avere una nuova spinta a salire questo perché? per il fatto che comunque abbiamo che qui di nuovo su stando nel PURS500 abbiamo un ennesimo almeno bisettimanale t-1 inverso bisettimanale inverso che si è già vincolato completamente a salire di indice e se noi siamo arrivati soltanto a 6 giorni un bisettimanale dura per almeno 12 giorni quindi il nostro S&P500 ha meno di robe strane e può continuare a salire ancora fino a inizio settembre ok? direi che è tutto per oggi vi ringrazio per la vostra attenzione per il vostro tempo e vi auguro una splendida giornata la mia lo sarà sicuramente perché ho già deciso così e vi ringrazio per la vostra attenzione